Amici buonasera, questo è un appello, vi prego non cominciate a mandare messaggi di auguri, pace, serenità, salute, amore, denaro, tutte stronzate, non rompeteli i coglioni, l'altranno mi avete augurato la stessa cosa, mi è venuta la guardia di finanza e mi ha fatto un culo come il secchio, quindi fateveli i grazi vostri, continuiamo come abbiamo sempre fatto, il fatto di pasta, Renzi stronzo, viva la Roma, viva la Ternana, però non rompeteli i coglioni, fateveli i cazzi vostri, grazie.